Ci scattano? Ci scattano? Ci scattano? Bellissimo, è passata nella competitivissima squadra del Costa Rica, non avevano neanche biciclette, sono passate e ci facevano le cote a noi. La scuola è in Longo Congo senza biciclette, la scuola è in Longo Congo senza biciclette, io ho un'altra scuola, io ho un'altra scuola senza biciclette, e le pubbliche c'è. Stanno arrivando tutti, è arrivata anche la scuola. Grazie 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 Grazie